La nascita di un nuovo ospedale a Teramo anima in questi giorni dibattiti pubblici e accende gli animi dei politici. Il nuovo nosocomio terramano sorgerà, ormai è quasi certo, a Teramo nell'area di Piano Daccio grazie ad un project financing. Verrebbe a costare circa 250 milioni di euro con 600 posti letto. Il Ministero della Salute ne ha appena finanziati 83 di milioni. La ASL ha costituito un gruppo di lavoro che sta studiando l'unica proposta arrivata finora, presentata da una storica impresa idile, la Pizzarotti di Parma. Sull'ubicazione della struttura sanitaria è però scoppiata in città, una vera bagarre. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe una consultazione di tutta la cittadinanza. Chiede invece un consiglio comunale straordinario aperto, il segretario della UIL Alfiero di Gianmartino, per verificare gli aspetti di natura economica e sociale legati ad un eventuale spostamento dell'ospedale in periferia. Il Comitato dei quartieri Teramani chiede del perché non si possa ristrutturare il vecchio Mazzini, mentre il nascente Comitato per un nuovo ospedale centrale e provinciale, al quale hanno aderito medici e farmacisti, reclama la costruzione del nuovo nosocomio nell'area strategica di Mociano Sant'Angelo. Ma ecco arrivare chiara la posizione dell'amministrazione comunale Teramana sull'argomento. Per il Sindaco d'Alberto la priorità è un ospedale di secondo livello, la cui collocazione deve essere individuata nel capoluogo. Sarà mia premura a invitare il neoministro Roberto Speranza, dichiara d'Alberto, con il quale ho già avuto contatti. Il primo cittadino di Teramo chiederà di rivedere i criteri del decreto Lorenzin affinché sul territorio resti appunto un ospedale DEA di secondo livello. Una scelta resa ancora più necessaria dalle conseguenze dell'emergenza terremoto.